Il Mitterfest giunge quest'anno alla 27esima edizione e nei mesi scorsi abbiamo concentrato le energie per un suo rilancio, per innovarlo alla luce però di quello che era stato alle sue origini, cioè un festival europeo nato in un momento storico in cui c'erano grandi speranze di una Unione Europea a seguito della chiusura delle barriere che vedevano congelata l'Europa in due blocchi contrapposti. Oggi le problematiche sono altre, c'è sconforto e delusione per questa Europa rispetto alla quale noi intendiamo rilanciare la speranza. Vogliamo recuperare la carica di energia, di entusiasmo, la magia di quelle prime edizioni e vogliamo proiettarsi nel contesto europeo come regione Friuli-Venezia-Giulia che è una terra in cui si incontrano le civiltà dell'Europa, quelle importanti, quella slava, la tedesca e la latina. Abbiamo affidato al nuovo direttore proprio il compito di proiettarci in Europa considerata la sua competenza in ambito internazionale e naturalmente auspichiamo anche che i progetti siano di alta qualità. Le premesse mi sembrano buone.